Buona domenica, intenditore di calcio, fratelli juventini, oggi tocca a noi, Udinese Juventus. Allora, mio pronostico, dunque, seguendo la legge di Kirchhoff, seguendo Archimede, seguendo Galileo Galilei, ci sono state le doppiette di Osimene, le doppiette di Latoro Martinez, e quindi questa sera, chi ci sarà la doppietta? Siamo venuti fin qui, siamo venuti fin qui, per vedere segnare Flaulic, butta la mic, butta la mic, ha segnato Flaulic, butta la mic. Dunque, Udinese, uno, Juventus, due, doppietta di Flaulic. Vedrete che sarà così. Ma, io, esattamente, ho fatto una schedina, o bolletta, come si chiama adesso, X2 l'ho coperta, perché sai, Udine, diciamo, per noi, Juventini, è sempre stato un campo oneroso, un campo oneroso. Però, negli ultimi, statistiche e curiosità, io lo dico sempre, negli ultimi quattro anni, c'è stato, dunque, vittoria dell'Udinese, il vittoria di Juventus, pareggio di Juventus, pareggio di Juventus, 2 a 2, ricordate, la minchia di che fici la cosa fiscale, due cazzate, e poi l'anno scorso il codice di chiesa. Quindi, negli ultimi quattro anni, quindi, vedi com'è, salta sempre, mi avvingi, poi pareggio, quindi, occhio, occhio, quindi, io per questo ho detto, X2, capito, se non perde il 2 a 1, al contrario. Comunque, io, ripeto, ma, speriamo, diamo fiducia alla Juventus, vuol dire, l'anno scorso, la prima, va, abbiamo vinto, quindi, la Juventus, volendo, parte sempre al razzo, e dopo che, negli ultimi tre anni, ha fatto un po' schifo, no? Quindi, vabbè, poi, solito copione di Allegri, sempre, solite cazzate, starmi a vedere. Per Ken, ho sentito che è sul mercato, lo vuole in Milan, ma, ragazzi, io, purtroppo, a Malenguore, io, ho qualcosa, qualcosa mi dice che, alla fine, prenderà Berardi e Lucazzo, non so perché, ma, visto che sto Ken, che poi, o c'è, non c'è, dice, eh, mancherà Ken, capirai, tanto lo stesso, non capisce niente, quindi, se va via Ken, per Lucazzo, insomma, ma, tanto, due bitoni sono e due bitoni resteranno, quindi, io, sempre coerendo, sapete, quindi, poi, al raddoppio, andiamo al raddoppio, andiamo al raddoppio, ieri ho vinto, praticamente, ho messo 10 euro, ho vinto 18 ore e 50, ma, vogliamo andare al raddoppio, io volevo, volevo mangiare una bella pizza stasera, in Santa Faccia, guarda, mi sono, ma, ho vinto, perché sono in vittoria, ma, infatti, vado, non vado, allora, se vado, andate al raddoppio voi, io, onestamente, mi mangio una bella pizza e birra, cotto ore e 50, guarda, quindi, è stata gratis questa birra, questa birra e pizza, e, allora, io giocherò i 10 euro, i 10 euro che ho giocato, li giocherò con la Roma, Roma Sanitana, a raddoppio, è 1,53, addirittura, ecco, è salita un po' la quota, 1,54, comunque, 10 euro, 15 euro, più il bonus, 16 euro arriva, 6 euro, mi prenderò 6 euro, pensa, e così si gioca, ragazzi, io, ovviamente, ora c'è una famiglia, ma, prima, giocavo 100, 200, una partita per 200 euro, andavo a raddoppio, vincevi, i 100 euro in più, i 200 euro, dipende come raddoppio, ragazzi, io, per esempio, ci mettevo 100 euro, veramente, vincevo 85 euro, perché, a 1,85, hai capito, 85 euro, uff, aveva fatta spesa, così si gioca a caccio scommese, certo, è bello vincere la bolletta, 2, 3, 5 mila euro, 10 mila euro, 40 mila euro, perché, è successo anche a me, hai capito, e la faccio sempre, una, sai, con l'errore, questa, la bolletta voi, fatela sempre, però, vi consiglio, di giocare al raddoppio, perché, c'è, è una bella soddisfazione, è una pizza, un paio di scarpe, i preservati, tutto, è bello vincere così, io, per esempio, sono contento di aver venduto una pizza gratis, la combo di ieri, e oggi, al raddoppio, o meglio, anche 10 euro per raddoppiare, raddoppiare, che poi, insomma, non è che raddoppio, però, alla fine, 5, 6 euro, io giocherò la Roma, voglio giocare Roma-Sanitana 1, va bene? Fate, se volete, certo, se ci mettevo 18 euro, 18, no, 18.50 si può giocare, 18 euro, sulla Roma vincevo 27 euro, è la più bella ancora, però, ripeto, voglio fare andando le cose con cautela, va bene? Halma, halma, come dice la, quel minnesota di Allegri, vi saluto, e buona domenica, adesso, vedete, in Barre Palermo, dove sta andando? Eh, in Barre Palermo, la chiesa, vedete la chiesa, Barre Palermo, sta andando in chiesa, benediciamo, benedici, signore, anima mia, benedici, signore, la nostra Juventus, per questo campionato, 2023-2024, buona domenica, ragazzi, mi raccomando, giocate, e seguitemi i miei consigli, perché sono una persona veramente intelligente, ciao.